E' importante fare aggiornare i web spettatori di TV Radicale su quello che è lo Stato delle iniziative politiche che avete intrapreso importantissime e gravissime, che avete intrapreso e state intrapendendo a Napoli. Però prima c'è una notizia che voi commentaste, il fatto che la prima seduta del Consiglio Comunale di Napoli sarà trasmessa da una streaming, giusto? E' stata già trasmessa, si è tenuta giovedì o mercoledì, tante sono le cose che sono accadute in questa settimana che non ricordo nemmeno il giorno. Sì, ho fatto un comunicato nel quale ovviamente ringraziavo il nuovo sindaco De Magistris per aver voluto dare un segnale forte all'inizio che sto mandato, che è quello di mandare in diretta internet sul sito del Comune, poi è stato fatto anche sul sito proprio di De Magistris dove c'era anche la possibilità di chattare, commentare la seduta in diretta e questo è un fatto importante. È andato anche oltre quello che era poi il dispositivo della delibera su questo punto, perché è previsto la pubblicità dei lavori, ma non nella forma della diretta, quindi su questo voglio dire che speriamo che anche rispetto a tutte le altre punti della delibera, quelli dei tiranci, dei patrimoni, dei consiglieri, le presenze, insomma il comportamento politico e tutte le cose che conosciamo, si abbia appunto la stessa volontà e quindi presso vengano aggiornati tutti i dati che sono sul sito del Comune e inseriti anche quelli che mancavano nella precedente consigliatura. Comunque noi possiamo dire quindi che a Napoli la lotta per la nagra per gli eletti è stata davvero una lotta di pionieri, ma che adesso vede dei risultati importanti, per quanto mi riguarda se posso solo un minuto, diciamo avendo lavorato 15 anni per Radio Radicale e avendo avuto la fortuna di stare per 12 anni a registrare il Consiglio Comunale di Napoli mi ritenevo un cittadino privilegiato, probabilmente l'unico cittadino napoletano che sapeva come andavano le cose nella politica della città, perché conosciamo qual è invece il livello della informazione dei giornali sulle istituzioni che abbiamo a Napoli, quindi questo è importante, i cittadini finalmente potranno controllare, molte delibere che in passato sono state prese contando proprio appunto sull'ignoranza e appunto non possano essere più prese, quindi anche la qualità del lavoro migliore e questo è sicuramente una cosa di cui Napoli ha bisogno. Poi spero anche che rispetto alla diretta questa cosa non sia un evento occasionale, ma si riesca ad avere continuità, ad archivare le sedute, a metterle sul sito, insomma fare davvero un servizio importante per i cittadini di Napoli. Luigi quindi anche tu concordi un buon esordio da parte di De Magistris per la regione dei risultati, dei risultati che prima non c'erano e soltanto che io devo essere sincero, ho una sola paura riguardo De Magistris, la paura di questa grande vittoria del voto popolare che ha dato soddisfazione, si è fatta festa, ma Napoli è piena di spazzatura, lui ha detto che l'avrebbe rimossa nell'arco di cinque giorni, sono passati già due giorni e la spazzatura è raddoppiata, quindi io ho molto dimore perché sappiamo la politica come è fatta, si dicono tante cose, si fanno tante promesse, ma poi i problemi esistono e vanno affrontati. De Magistris gli auguriamo di fare un buon lavoro, però io credo che le difficoltà sono davvero tantissime, quindi che ben venga il nostro sindaco internettiano perché sicuramente ci mette in condizione a noi cittadini di poter partecipare più esplicitamente alla vita politica e sociale di questa città, perché Napoli ha bisogno della partecipazione della gente per migliorare il comune. Voglio augurarmi che nell'arco di poco tempo si cominciano a vedere un po' di cose positive e quindi che Napoli possa avviare una strada per ripristinare la legalità, che è quella la materia più fondamentale su cui tutti dovremmo riflettere e partecipare. Ecco Luigi, invece l'iniziativa sull'amnistia davanti al carcere di Poggio Rale, raccontaci anche questo. Sì, guarda, io stamattina con Rodolfo e altri 7-8 compagni abbiamo tenuto una bella manifestazione, devo dire, con cartellonata, con volantinaggio, e beh, c'è da dire che effettivamente i napoletani non sanno nulla di Marco che è in digiuno da due mesi e insomma li ho visti anche qualcuno afflitto, cioè che è rimasto un po' strano, non credeva che ci fosse questa iniziativa riguardo il carcere di Poggio Rale. Ci sono state persone che ci hanno detto che purtroppo non potevano venire perché venerdì era una giornata di lavoro, però ci sono state anche altre persone che hanno letto il volantino, si sono informati e che ci hanno promesso che verranno la manifestazione di venerdì 24. Questa noi la stiamo preparando davvero ad hoc, nel senso che già martedì prossimo, ora noi dalle 7 alle 9 saremo di nuovo lì, anche mercoledì, anche giovedì, per raccogliere le adesioni alla partecipazione di questa manifestazione da parte delle famiglie dei detenuti che sono in fila e che dovranno insomma partecipare con noi affinché si possa dare uno slancio, si possa almeno cercare di far venire un qualche giornalista, una televisione, perché è una manifestazione che davvero ci sta impegnando molto e devo dire ci sta anche togliendo un po' di sonno. Speriamo bene e auguriamoci… Ma comunque ci sono importanti aggiornamenti che nemmeno tu conosci perché mi sono aiutato proprio mentre iniziavamo il collegamento e io di questo sono davvero felice perché noi abbiamo tenuto una riunione mercoledì scorso nella quale appunto si è deciso di iniziare una mobilitazione straordinaria in sossegno all'azione non dolente di Marco Pannella che tra l'altro proprio oggi nella trasmissione domenicale che ha fatto con Massimo Bordini ha annunciato che dalla mezzanotte sarà in sciopera della sera. Quindi anche giovedì siamo stati… Mi stai dando una brutta notizia, mi stai dando una brutta notizia… Purtroppo la brutta notizia è che i medici hanno consigliato già il ricovero a Marco per il digiuno, ma Marco è motivato ad andare avanti anche con lo sciopera della sede, quindi ci sarà da tenere molta attenzione rispetto a questa iniziativa di Marco. Noi sappiamo che Marco rischia sempre la vita contro la morte civile e sociale, quindi faremo di tutto per sostenere questa lotta, anche perché siamo fortemente convinti della bontà di questa nostra richiesta. Infatti la manifestazione che abbiamo convocato l'abbiamo intitolata Amnistia e giustizia, perché in questo momento un provvedimento di amnistia che è ampio, che dia la possibilità a persone che stanno in condizioni di detenzione che sono criminali e durano da troppo tempo. L'Italia non rispetta nessun parametro internazionale, rispetta alla detenzione, i diritti umani sono violati costantemente e quindi è un modo per rendere giustizia quello di un'amnistia senza andare appunto poi nella questione proprio del meccanismo della giustizia, che sappiamo, i processi che vanno in prescrizione ogni anno, con i 150 mila prescrizioni. 200 mila prescrizioni! Un anno 170 mila, più o meno siamo 350 mila e 200 mila, insomma, con l'amnistia appunto a quel punto di recensione, poi ad personam. Giovedì siamo stati sotto il caccio del tipo generale e abbiamo parlato con i familiari detenuti che fanno l'unica gode a partire dall'alba e le immagini sono anche sul nostro sito www.perlagandianapoli.org e questi sono stati, beh all'inizio forse c'era un po' di diffidenza perché magari sappiamo che, insomma, qual è la condizione di sfiducia, però parlando con loro, dialogando, dicendo che noi non eravamo lì per dubbire nessuno che appunto ottenere il 75% del Parlamento italiano che è dubbio da un provvedimento del genere non è impresa facile, quindi senza illusioni però lottando tutti insieme perché comunque appoggiare alle ci sono 1.300 detenuti che hanno già fatto lo sciolore della palla. Altri 24 familiari si sono aggiunti appunto nella giornata in cui siamo stati là, noi ripeteremo queste uscite martedì, mercoledì, giovedì e venerdì prossimo e poi venerdì dalle 9 inizierà la manifestazione. Rispetto a questo voglio dire che arrivano dei segnali importanti perché oggi è venuta la RAI a fare, a girare le immagini della manifestazione, noi speriamo che le mettano in onda, per il momento ancora non c'è niente ma speriamo nell'edizione delle 11 e in più abbiamo delle prime adesioni a questa manifestazione. La prima associazione che ha manifestato, questo fin da subito dobbiamo dirlo, è stata l'Associazione Radicale di Messorossi di Andrea Fuggele che appunto sarà presente alla manifestazione e proprio adesso mi è arrivata l'adesione della federazione socialista di Napoli e della federazione dei giovani socialisti nazionali. Abbiamo contattato e che quindi saranno anche loro lì con noi, Andrea Bonaiuto ci ha comunicato questa importante notizia perché con i socialisti di Napoli e la federazione dei socialisti abbiamo negli ultimi tempi anche sia a livello nazionale che a livello locale ha avuto delle manifestazioni comuni, ricordiamo quella che abbiamo fatto a febbraio, la piaccolata per l'eutanasia e per il registro del testamento biologico. Esatto. Quindi federazione dei socialisti di Napoli, giovani socialisti in più abbiamo contattato la Camera Penale che probabilmente darà l'adesione a questa manifestazione, aspettiamo una risposta, ma è molto probabile, così come anche l'associazione Il Carcere Possibile Onlus potrebbe aderire e abbiamo parlato anche con i rappresentanti di associazioni di psicologi, operatori del carcere che sappiamo che anche loro sono sciopoli della fame, insomma noi puntiamo a fare una manifestazione che coinvolga quanta più persone possibile, perché questo è un problema, è una lotta non violenta che ha bisogno davvero dell'iniziativa individuale di tutti noi. e quindi io considero, sicuramente questa settimana ci sarà appunto un rilancio di questa lotta con l'iniziativa di Marco Pannella, ma sicuramente per questa manifestazione di Napoli io credo che possa essere soltanto la prima di un'iniziativa che comunque ci vedrà impegnati fino al raggiungimento almeno di questo primo obiettivo dell'amministra. Sì, volevo ricordare anche l'associazione Antigone nella figura di questo nostro amico Dario che ci ha segnalato anche sull'ultimo caso di suicidio, cioè di suicidio di morti in effetti che c'è stato al carcere di Porgio Reale, questo detenuto di 51 anni che è morto d'infarto e che secondo delle notizie risulta che lui è stato totalmente abbandonato, non sono chiare le notizie che arrivano di questo infarto, di questa persona, per cui sarà avviata anche un'interrogazione che è stata girata anche a Rita Bernardini, per cui noi dovremmo cercare di vedere bene anche lo svolgimento di questa situazione, di questo giorno. Roberto, cosa vuoi che ti dica? Scusami, hai praticamente con questo caso di infarto che però sembrerebbe che anche l'ISO forse non siano arrivati a tempo, poi è tutto per dimostrare e vedremo, ma noi al nostro primo volantinaggio abbiamo già ricevuto delle segnalazioni abbastanza serie rispetto ad alcune problematiche del carcere di Porgio Reale. Una la vorrei segnalare perché mi sembra grave, sappiamo che può generare il carcere più affollato d'Europa e sappiamo che in alcuni padiglioni da tre settimane non arriva matto. I valenti ci hanno detto di far uscire questa notizia perché in quelle condizioni di sovraffollamento non potete fare una doccia o farla una volta alla settimana, stare senza acqua, è davvero un'altra forma di tortura. In più ci è stato segnalato il caso di Vincenzo, la cui moglie mi ha chiamato anche oggi perché è davvero disperata. Lei segnala che il marito, che è un giovane di appena 32 anni, recluso al padiglione Salerno, che dovrebbe finire di scontarla appena da tre mesi, è stato operato in settimana allo stomaco per la quarta volta e dopo solo due giorni sarebbe stato riportato in cella e la signora denuncia che nel carcere manca qualsiasi tipo di assistenza sanitaria ed è molto preoccupato per quello che può accadere al marito. Quindi noi segnaleremo anche questa ricca d'arena ai nostri parlamentari perché davvero crediamo che in questi casi ci siano anche la necessità, l'opportunità di stare a casa o comunque tenere in una struttura ospedaliera una persona che dovendo scontare solo tre mesi, essendo in quelle condizioni non possiamo pensare che sia un pericolo per la società, insomma un po' di umanità. Perfetto ragazzi, io credo che abbiate tratteggiato quelle che sono le linee di un'iniziativa politica continuamente attiva, continuamente presente a Napoli grazie alla vostra associazione e anche grazie all'altra associazione napoletana che presto avremmo nostro ospite, sarebbe bello avere un dibattito, anzi non un dibattito, una presenza da parte di tutte e due le associazioni di contemporaneamento, i Napoli bi-partisan, perché no? Quindi inviteremo presto anche i compagni dell'associazione radicale Ernesto Rossi. Ma veramente onore al merito ai compagni napoletani tutti per la vittoria sull'anagrafa pubblica degli eletti e sulla grande mobilitazione che hanno messo in atto sulla questione carcere-amnestia. Se avete altro da aggiungere ragazzi, altrimenti… Sì, lo spot finale. Allora, una cosa la volevo aggiungere un attimo io, Rodolfo, poi chiudi tu. Vai, vai. Da lunedì, cioè da domani, o dopo domani, io da dopo domani, insieme agli altri compagni, anche noi parteciperemo ad un digiuno a staffetta. Per cui credo che questa sia una notizia da dare, perché da qui a venerdì ci saranno dei digiuni su cui noi parteciperemo e faremo in modo di stimolare anche i cittadini a cui diamo questi volantini. Cioè noi non vogliamo digiunare soltanto con i parenti dei detenuti, ma noi vogliamo digiunare e far digiunare anche i cittadini di questa città per sensibilizzarli e ci stiamo tentando, ci stiamo impegnando su questo fronte che crediamo sia molto importante. Vai, Rodolfo. Io volevo chiudere come al solito, l'Associazione Radicale per la Grande Napoli è un'associazione autofinanziata completamente. Abbiamo ricevuto questa settimana altre due iscrizioni e siamo felici che tra questi ci sia anche quella di Roberto Mancuso, il quale... E' un rinnovo, è un rinnovo. E' un rinnovo, esatto, il rinnovo della tessera, è importante. Quindi magari chi ci sta ascoltando che non ha ancora rinnovato la tessera può farlo. Per chi invece non avesse mai avuto la possibilità di conoscere e di fare questa scelta gli diciamo che l'adesione è libera perché basta accettare lo statuto che è sul sito dell'Associazione www per la Grande Napoli.org e pagare la quota che per quest'anno è di 25 euro. Queste risorse sono importanti e sono direi indispensabili per permetterci di continuare la nostra azione politica e la nostra lotta non violenta. Io ringrazio anche Riccardo Custuti che si è iscritto e che mi ha dato anche altri 25 euro oltre la quota di iscrizione. Grazie Riccardo. Stai diventando troppo ricchi adesso, eh? No, no, no. No, veramente. Abbiamo false speranze. Non è così, non è così. L'iniziativa politica ha un costo e l'autofinanziamento è quello che dà anche sostanza all'iniziativa politica. Bene. Ovviamente continuano anche le altre iniziative. Anche oggi abbiamo raccolto i film sui contributi silenti. E quindi, insomma, noi cerchiamo comunque di tenere una continuità d'azione, anche se poi abbiamo una mobilizzazione straordinaria sull'obiettivo. Certo. E scusami, adesso non parlo più davvero. No, no, va benissimo, ma ci sarebbero tante altre cose da dire. Infatti ci siamo allungati, sono le 21.23 e questa diretta pomeridiana serale di TV radicale è stata veramente molto interessante. Saluto Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, è componente del Comitato Nazionale di Radicale italiani. Saluto Rodolfo Viviani, già segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, attualmente facendo parte del Comitato Nazionale di Radicale italiani. Rodolfo alza il dito, quindi non possiamo fare altro che di dare la parola. No, se no poi faccio una cosa che può dispiacere. Probabilmente venerdì avremo le nuove bandiere dell'Associazione, le nuove spillette. Dobbiamo ringraziare Domenico Foscolo che è stato davvero a passare le notti a ridisegnare il nostro simbolo. e quindi magari venerdì per tutti gli iscritti e questi iscritti può essere anche un'occasione per vedere queste nuove bandiere che sono davvero belle. Quindi l'appuntamento giorno, ora, luogo. Giorno, ora, luogo. Ripetiamolo. Allora, venerdì, 24 giugno dalle 9 in poi, fuori il calcio di Poggiereano. Perfetto. Salutiamo quindi Rodolfo, Viviani e Luigi Mazzotta. Si concludono qui le trasmissioni odierne di TV Radicale. Io spero che il palinzesto di oggi, da quello che era stato in programmazione oggi, sia stato proprio interessante seguirlo. Un saluto a tutti. Ho qui uno tsunami che tra un po' mi farà venire una bronchita, infatti c'è un colpo di tosse che sta per partire. Un saluto a tutti e a domenica prossima.